La guarda è che ero convintissimo di aver scritto oggi, invece ho scritto domani, però vabbè. Sì, infatti, non c'è problema. Comunque, con te oggi vorrei fare una sorta di analisi al Portugal Pro che si trarà questo weekend. È una cosa che faccio ogni volta che c'è una gara, ogni volta che esce la lista io faccio una previsione di come potrebbe andare la gara. Analizzo tutti i concorrenti, le mie opinioni, eccetera. Oggi vorrei sentire le opinioni di un'altra persona, di colui che è stato il primo youtuber a portare questi contenuti in Italia. Non so se tu hai già visto la lista dei partecipanti. Ho visto la lista, non li conosco tutti, però ho dato uno sguardo un po' veloce, quindi non penso che parleremo di tutti, tutti, tutti. Poi, quello che non so io ovviamente è di dillo tu, non ho la pretesa di conoscere tutto e tutti, di saper parlare di tutti. Allora, sono in totale 12, un bel line-up, se devo dire la tutta. 4 italiani, il primo è Morgan Asti, che onestamente è un'altra che non mi piace tanto, come tipo leggeri fisico, come struttura, eccetera. Perché è un'altleta molto alto, è alto tipo 1,90 m e quindi è molto difficile per lui trovare il giusto frame per stare accanto agli altri. La cosa che lo contraddistingue dagli altri è la condizione, perché porta una condizione che quasi nessuna ha sul palco. Però non penso che possa entrare in top 5 a questa gara, tu che ne pensi? Top 5, non lo so, potrebbe anche entrare in top 5, perché lui ha già gareggiato all'Arnold Classic due anni fa, se non sbaglio, mi pare che non ricordo se fosse arrivato l'ultimo o penultimo. Quindi comunque è già conosciuto, però no, neanche a me piace, non è troppo alto e ha una struttura un po' così così, non ha un bel colpo d'occhio, come dico sempre io, senza andare ad analizzare nel dettaglio. L'ultimo ti per cui non mi piace, secondo me non ha un bel colpo d'occhio, poi come dici tu, la definizione è sicuramente buona, però secondo me il colpo d'occhio è quello che lo frega. Poi spazia anche molto, notavo l'anno scorso che spaziava molto. Sì, ho visto anche alcune foto su Instagram, c'è un po' di problemi di controllo. Poi abbiamo Team Budesheim, che l'anno scorso aveva anche iniziato bene con le gare, è arrivato secondo sempre in Portogallo a Dito Presti, terzo o quarto all'Europa Pro, poi però ha fatto due o tre gare che sono andate veramente male. L'Arnold Classic, la Yamato Cup, sono andate molto male per lui, forse perché non aveva la stessa condizione delle prime due, ipotizzo. Beh a me lui piace molto, anche l'anno scorso in Portogallo, adesso ho fatto un po' a memoria, non aveva una definizione incredibile, però mi ricordo che un paio di anni fa, se non sbaglio, due stati fa aveva fatto alcuni contest molto molto buoni, Io l'avevo conosciuto grazie ai contest che aveva fatto due anni fa e mi piace molto come un bodybuilder, è un bodybuilder abbastanza completo, non ha dei dorsali incredibili, forse è quello secondo me il suo punto debole, però secondo me è uno che può far male se arriva in condizione, lo vedo molto pericoloso se arriva in condizione. Sì, anche secondo me, anche perché l'anno scorso per esempio lui che aveva una condizione migliore, ecco spiccava rispetto ad altri atleti che erano migliori di lui, però per esempio non erano in condizione e posavano male anche, come Vlad per esempio. Vlad l'anno scorso poteva ottenere qualche posizionamento in più se avesse posato meglio secondo me. Adesso io non mi ricordo come hanno posato i bodybuilder, mi ricordo un po' i bodybuilder ma non tutti questi dettagli, anche lui è uno che secondo me potenzialmente può far male perché almeno guardandolo su Instagram sembra definito, però chiaramente Instagram lascia il tempo che trova. Ci sono alcuni nomi e secondo me sono Presti, per la vittoria dico Presti, Team Budesheim, Petr Klanchir anche, Petr Klanchir e poi Vlad, non mi ricordo il cognome, Kuzo, Sukoruchko. Eh, Sukoruchko. Secondo me i più pericolosi sono questi qua. Sì, Petr secondo me può essere molto pericoloso se si arriva in una giusta condizione, perché mi ricordo che quando aveva fatto il Cali Pro era molto flat, era molto scarico, perché era arrivato in America il giorno prima anche. E l'ho messo anche lui, non so se hai visto l'intervista che ha fatto con Mascula Development. No. Vabbè, in sostanza anche lui ha detto che non è soddisfatto del pacchetto che ha portato e che proverà a far meglio in Portogallo e secondo me se arriva granitico, duro, asciutto, può anche vincere la gara tranquillamente. Beh sì, potrebbe, lui è molto completo, ha un tronco un po' allungato, i dorsali un po' alti, però nel complesso è messo bene, ma questi nomi che ho fatto prima, chi più chi meno, cioè hanno tutti un po' alcuni punti deboli, chiaramente non c'è un bodybuilder perfetto sotto ogni punto di vista in questa lista di 4 o 5 nomi. Ognuno di loro ha punti deboli, punti forti e secondo me si deciderà tutto in base alla definizione. Sì. Poi abbiamo Roberto Buonuomo alla prima gara dell'anno, una tetta che onestamente è di bei volumi, molto voluminoso, però anche una bellissima struttura. Io me lo ricordo due anni fa quando l'ho visto per la prima volta, pensavo questo qua, non mi fa impazzire, poi però continuando a vederlo, diventava sempre più grosso, però la sua struttura era perfetta, aveva una vita veramente strettissima. Penso che potrà fare molto bene qua, anche perché l'ho visto molto migliorato in questo ultimo anno. Sì, anche lui mi sembra abbastanza messo bene, forse è un po' meno master rispetto agli altri, però porta, come hai detto tu, una buona struttura e una buona definizione. Vero, vero. Poi, questo qui non lo conosco neanch'io, Andrea Muzzi, che è un po' un'incognita lui, dipende sempre da come arriva in gara, se arriva in condizione... E in genere non arriva in condizione. Guarda, quante gare ha fatto quest'anno? Due? Mi sa che ne ha fatte due, tre. California, Toronto, Porto Rico. E' vero, ha fatto Porto Rico, quarto, giusto? Sì, sì, sì. Poi il Cali Pro è arrivato terzo. No, anche lì quarto. Quarto? Dov'è che è arrivato terzo? A quante parte è arrivato terzo? Eh, a Toronto, dietro la Theo. E' vero, ok, sì, sì, sì. Dipende sempre da come arriva in condizione, cioè lui è un talento genetico, però dipende sempre da come arriva in condizione. A foto di Ben, mi sembra... Sì, sì, prego, prego. No, stavo dicendo, mi sembra che la sua migliore uscita sia stata la prima gara che ha fatto quella... Il Cali Pro era, se non sbaglio, dove Presti è arrivato settimo. E poi mi pare che sia lentamente peggiorato, per quanto riguarda la definizione. Non so se sia fattibile un miglioramento a questo punto, perché in genere quando i bodybuilder iniziano a peggiorare, tra virgolette, Cioè, quando iniziano a perdere un po' la definizione, è difficile che la riprendano nel giro di poche settimane. Cioè, o parti già con una buona definizione e la migliori, ma è difficile che parti già con la prima gara, la definizione era così così, non era eccezionale. E gradualmente l'ha peggiorato, cioè è difficile fare alti e bassi, o la migliori sempre o la peggiori sempre. Questo non lo sto dicendo io, cioè mi baso su quello che ho visto negli anni, mi sembra che in generale sia così. Poi, sarò ben felice di essere, non dico smentito, ma sì, anche io guarda. Queste sono le mie constatazioni date dall'osservazione delle gare. Però sarò felice se lui farà bene, perché penso che, almeno, io non ho favorittismi nel bodybuilding, ma in niente di quello che faccio nella mia vita. Cioè, io spero sempre in un ideale inesistente, cioè la meritocrazia, non solo in bodybuilding, ma in qualsiasi cosa. Quindi io spero sempre che vinca il più meritevole, quindi, cioè, spero che Muzzi faccia bene e comunque, in generale, spero che vinca il migliore. Cioè, io non tifo Muzzi, non tifo Presti, non tifo Buonuomo, non me frega niente di chi vince. Cioè, spero solo che vinca il migliore e nel bodybuilding ogni tanto succede, ogni tanto no. Sì, anch'io la penso così, anche questa sorta di battaglia, ecco, che si sta facendo sul social tra Muzzi e Presti. Cioè, a me non me ne frega niente, onestamente. Ma quello è anche divertente, secondo me. Non mi interessa, però aggiungi un po' di pepe. Allora, un po' di rivalità ci sta anche. Ci può stare un po' di rivalità, però più di tanto. Sì, ma la battaglia la sta facendo Muzzi più che Presti. Anche Romano. Eh, no, dico, la parte di Muzzi più che Presti e Sassi. Presti e Sassi fanno il loro e al massimo rispondono alle frecciottine. Perché non per stare dalla parte di Presti, cioè io non sto, come detto, dalla parte di nessuno. Però se uno deve dire la verità, la verità è che Muzzi e Romano sono loro quelli che mandano frecciottine. Poi, adesso senza esagerare con le parole, comunque sono arrivati quarti quando Presti è arrivato settimo. Non è che sono arrivati primi. Sì, poi ho visto anche in un commento di questo weekend, e questo weekend ha fatto una gara Pasquale d'Angelo, quella che è la gara generale del 2012, che è seguito da Romano. Ed è arrivato quarto in Spagna. E sotto un commento di non mi ricordo quale pagina c'era Giuseppe Romano che rispondeva a uno, gli diceva Pasquale è arrivato quarto, scusa, unicesimo all'Olimpia, non ultimo. Riferendosi ovviamente a Presti. Ah, beh, è chiaro. Poi abbiamo, sì, anche Presti, Gareggia. Pensi che la scelta di fare due gare intercontinentali in mezzo a settimana possa avere qualche problema? Vabbè, in Portogallo, non è che negli Stati Uniti. No, ma il fatto che prima era Orlando, poi adesso è in Portogallo. Secondo me l'ha fatto bene, anche perché ha consolidato il suo status, diciamo, perché comunque lui viene dal mistero d'Olimpia. Per quanto sia un ultimo posto, è sempre un ultimo posto al mistero d'Olimpia, non alla gara parrocchiale. Cioè, un primo posto in qualsiasi gara, a meno che non sia l'Arno Classico, qualche gara importante non vale quanto l'ultimo posto al mistero d'Olimpia. Poi è arrivato secondo nella prima gara che ha fatto a New York, poi è arrivato settimo che, come ho detto, non era un settimo posto perché è stato un furto proprio clamoroso. E poi adesso è arrivato secondo di nuovo a Orlando, dietro a Sam Mustafa, che comunque era in ottima condizione, è uno che ha fatto l'Olimpia. C'erano Max Charles, c'era... Antonio Burton... Sì, ma c'era anche un altro, adesso mi sfugge il nome importante, non mi ricordo. Ah, Phil Clahart. Eh, Phil Clahart, comunque è uno che non ha fatto l'Olimpia, però Max Charles l'ha fatto, Phil Clahart l'anno scorso ha fatto bene, pur avendo, se non sbaglio, quasi 50 anni. Max Charles? No, Phil Clahart è appunto. Cioè, la gente dice sempre, eh sì, line-up scarsa, le line-up nel bodybuilding non sono scarsa, a meno che non siano quattro persone in un contest davvero del cazzo. Cioè, si tratta sempre di gare dell'IFBB e comunque Presti si è fatto due secondi posti, è arrivato al settimo posto e adesso va in Portogallo, avendo già fatto l'Olimpia l'anno scorso, avendo già preso due secondi posti in gare con gente, comunque, che chiaramente non è Big Ramio o Adichupan, però gente importante. E gli altri comunque non hanno fatto questi risultati. Esatto, sì, ha fatto una stagione veramente molto molto buona, perché secondo posto a New York, terza gara più importante, anche secondo a Orlando, secondo posto secondo me è meritato, poi non penso che meritasse la vittoria su Assange, perché penso che Assange sia un po' più voluminoso, eccetera. Quindi secondo posto giusto però ha fatto una stagione veramente impressionante quest'anno, Andrea. E poi portando sempre un'ottima definizione, non è che ha fatto alti e bassi con una gara con una definizione di merda, una con una definizione buona, una con una definizione fantastica. Cioè, tutte e tre gare con un'ottima definizione, queste cose secondo me vogliono dire qualcosa, tralasciando, come detto, i punti deboli che sono i tricipiti su cui non può fare niente e le gambe su cui può fare qualcosa. Però per le gambe, probabilmente dovrebbe farsi un off-season di un anno, cioè c'è gente che il misto d'Olimpia spesso lo salta pur essendo qualificata, perché sente di aver bisogno di crescere per farsi ancora per alcune parti che sono carenti. Sì, sì, quelle gambe ci vuole un po' più di tempo perché non possono crescere se lui continua a gareggiare, serve un off-season, non possono migliorare più di tanto mentre gareggia. Ok, poi abbiamo Fabio Romagnolo, anche lui la prima gara dell'anno, un'antelata che ha fatto veramente bene l'anno scorso, ha fatto un cambiamento molto incredibile da quell'anno a quello prima. Mi ricordo che ha messo una foto di differenza tra le due annate, c'era un tipo 8 kg di differenza all'età di 39 anni, quindi veramente complimenti a lui perché mettere su così tanta massa a quell'età, poi tra l'altro, dopo aver fatto bodybuilding per anni, cioè veramente è una cosa da ammirare. Anche lui un po' carente di gambe come Andrea, però anche lui come Andrea porta sempre una condizione veramente impeccabile, a parte l'ultima gara che ha fatto in Spagna che è andata un po' malino, però anche lui porta sempre un'ottima condizione e ha una schiena veramente eccezionale, secondo me, tu che ne pensi? A dirvelo non lo seguo granché, quindi mi astengo dal commentare perché non vorrei dire stronzate, quindi ammetto la mia ignoranza. Ok, ok. E infine l'ultimo che conosco è Sarham Sarhan, che l'ho conosciuto ieri più che altro, e ho visto che aveva fatto anche l'Europa Pro l'anno scorso ed era arrivato quarto, mi sono andato a controllare le sue foto sul sito dell'NPC, è veramente un buon atleta, con una buona struttura, veramente molto buono e penso che anche qui arriverà in top 5, secondo me tu lo conosci? Anche questo non ce l'ho presente, l'ho detto molto sinceramente, non seguo tutti i bodybuilder, io guardo le gare, poi mi guardo fondamentalmente i primi posti, poi dovrei stare fuori di testa per guardarmi tutti i bodybuilder e ricordarmi tra l'altro, anche perché io ho una memoria abbastanza di merda. Ok, e dato questi nomi, secondo te come sarà composta la top 5 o la top 3? Allora, fare previsioni è sempre impossibile, finché uno non vede i bodybuilder sul palco, come detto, secondo me Presti sarà sicuramente nei primi posti, io penso che possa anche vincere, non dico tranquillamente perché non è una passeggiata nel parco, però lo vedo sicuramente tra i papabili per la vittoria e come detto vedo Tim Budersheim e Peter Clanchier, cioè secondo me se la giocheranno un po' questi tre. Sì, anche Blas, eh sì appunto, anche lui però conta molto anche il blasone nel bodybuilding, il nome, con ciò non sto dicendo che non possa far bene, però in linea di massima mi baso anche su quello che ho visto in generale in passato, quindi lo metto anche lui perché mi sembra, guardando le foto su Instagram, che abbia una buona definizione, però questi tre li vedo più vicini. Sì, anch'io lo penso come te, anche io lo penso come te, Presti, Petar e anche Tim Vlad, ecco secondo me si migliora il posing e si può inserire tra questi, perché mi ricordo che l'anno scorso mentre posava tremava un sacco e non riusciva a tenere una posa per più di due secondi, cioè continuava a girarsi e non stava mai fermo e secondo me questo è il motivo per il quale l'hanno messo al quarto posto, perché inizialmente era sempre stato accanto a Presti e poi l'hanno messo al quarto, quindi se posa bene può fare molto bene. Si sa niente di Rolli alla fine. Sì, è vero non lo so, ma la gente pensa che io stia sempre seguendo i bodybuilding, in linea di massima io guardo le gare, cioè a me interessano le gare, poi tutta una serie di cose le scopro per vie traverse o perché qualcuno lo scrive nei commenti o perché spunta in qualche video, però è da un po' ormai che, cioè a me in generale non interessa il gossip per qualsiasi punto di vista della vita, a me piacciono le gare, cioè quello che mi interessa nel bodybuilding sono le gare e l'analisi dei fisici, poi chiaramente ci sta che ogni tanto parli anche d'altro, però in linea di massima la cosa che mi interessa di più sono le gare e i fisici, certe cose le vengo a scoprire, cioè dopo molto, ma anche per quanto riguarda la vita quotidiana di tutti i giorni, io non ho la tv, non guardo, non seguo le notizie, io non so niente di niente di niente, le cose le vengo a scoprire perché qualcuno me le viene a dire, però vivo abbastanza fuori dal mondo. Ok, ok. E cosa ne pensi del fatto che quest'anno ci saranno molte gare? Non so se hai visto quante gare ci saranno, ma... Avevo visto il calendario, però penso che semplicemente il motivo sia che l'Olimpia è a dicembre e quindi ce ne saranno un bel po'. Sì, perché in totale più o meno dovrebbero essere Olimpia 25 atleti, più o meno, contando anche le gare che mancano, più o meno, più i tre che si qualificano a quei punti in totale dovrebbero essere Olimpia 25. Sì, ma poi comunque c'è sempre defezioni, c'è tre o quattro, se non di più saltano sempre, per un motivo o per un altro. Ok, allora, grazie per aver fatto questa sorta di previsioni con me, mi è piaciuto per sentire il parere di un'altra persona, ecco, di uno più esperto di me. Non sono così esperto, semplicemente mi piace il bodybuilding. Questa era, ha detto prima, la tua top 5, anche secondo me andrà a finire così. Per pick out ne metti tre con l'aggiunta di Vlad. Sì, top 3. Non erano cinque. Grazie mille Gianni, per quando vorrai venire un giorno a fare questa sorta di previsioni o anche di sentirci per tutti. Sì, vabbè, ogni tanto ci può stare il discorso che comunque, come ti ho detto, io non seguo tutti i bodybuilder. Adesso, anche per fare questo video, me li sono guardati un po', perché alcuni non ce l'avevo presenti o comunque non me li ricordo. Quindi, ci sta, però non sono così ossessionato dalla ricerca prima della gara. A me piace guardare proprio la gara, non mi interessa granché tutto quello che succede prima e tutto quello che succede dopo, in generale. Penso che possiamo farlo con l'Arno Classi UK o con l'Olimpia anche. Sì, vabbè, certo, si può fare. Certamente. Bene, grazie mille Jaime. Figurati. Buona serata. E grazie anche a te. Ci sentiamo. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.